Soliti ignoti in azione nel cuore della notte con incredibile determinazione. Nelle Mirino, il distributore self-service Kuwait, lungo la strada statale 16 nel territorio di Fossacesia. I malviventi che avevano studiato a puntino ogni dettaglio del piano, sono entrati in azione poco prima delle tre di notte, rubando un mezzo pesante presso l'Ital Camion, sempre di Fossacesia. Altri complici provvedevano a rubare un furgone presso l'Europet, rivendita autorizzata in Val di Sangro. Una volta raggiunto il distributore alle tre in punto, come testimoniato dalle immagini di videosorveglianza, i cinque malviventi hanno utilizzato il camion per sradicare in retromarcia letteralmente i distributori automatici self-service, per poi prelevare il contante. In genti danni con le pompe distrutte, l'area letteralmente devastata, qualche residente, svegliato dal rumore, ha immediatamente chiamato i carabinieri di Fossacesia, ma tutta l'operazione è durata meno di dieci minuti. Sottratti 12.000 euro in contanti, i cinque delinquenti sono scappati poi a bordo del furgone, ritrovato sul lungomare di Fossacesia Marina, a bordo ancora qualche banconota. Gli inquirenti indagano, analizzando accuratamente le immagini, anche se tutti erano coperti da passamontagna. Il danno totale all'area self-service ammonta circa 60.000 euro.